Grande successo e ottima organizzazione per la prima edizione del Sicily International Triathlon, gara su distanza media che si è svolta soprattutto a Sciacca, con la compartecipazione del Comune, dell'organizzatore e giornalista Sky Biagio Maglienti e di Aeroviaggi del patron Marcello Mangia. La manifestazione è andata a Mattia Ceccarelli e a Lilli Gelmini, quest'ultimo artefici di una prova da incorniciare che gli ha permesso di chiudere la classifica assoluta al settimo posto. Le prove sono state chiuse in poco più di quattro ore. Il mezzo Ironman si è dimostrato un evento di altissimo livello che ha portato a Sciacca i migliori atleti del panorama nazionale, che non si sono di certo risparmiati sul difficile circuito cittadino. La prova è cominciata con il miglio di nuoto in acque libere in località Sovareto e proseguita con i 91 chilometri di ciclismo tra Menfi e il parco archeologico di Selinunte, per poi concludersi con gli ultimi 21 chilometri di corsa, nuovamente dentro l'area di Sciacca Mare. Per più di mezza giornata Sciacca è stata blindata con molte arterie stradali interdette al traffico veicolare e pedonale, per permettere che il tutto si svolgesse nella massima sicurezza. Vittoria è andata, come detto, al forlivese Mattia Ceccarelli, che ha completato una prova resa ancora più difficile dei mille metri di dislivello del percorso di ciclismo. Soddisfatta anche Lilli Gelmini, campionessa di triatono olimpico, per lei prima volta nel mezzo Ironman di altissimo livello. Seconda e terza piazza sono andate ad Emanuele Farago e Lorenzo Delco, mentre tra le donne hanno completato il podio Valentina Brighenti e Silvia Aletto. Primi dei siciliani, rispettivamente al quinto e sesto posto, Marco Parrinello del Now Team e Luca Giammona del Magma Team. Un evento eccezionale con gli organizzatori che pensano già alla prossima edizione e con Sciacca che punta a diventare la capitale siciliana del triathlon e di questo specifico turismo sportivo. È già previsto per un minimo di tre anni, noi vogliamo mantenerla per sempre, è una nostra precisa volontà perché queste manifestazioni che nascono anche con piccoli numeri, oggi non è una giornata fortunata per il tempo, ma si sta aggiustando, bisogna nutrirle e possono diventare un evento internazionale di grande richiamo per il territorio di Sciacca. Noi abbiamo il vantaggio di poter far svolgere queste manifestazioni in un periodo dove in Europa non si può far nulla, oggi qua abbiamo più di 20 gradi, il mare è calmo, è caldo e dunque abbiamo un vantaggio competitivo rispetto agli altri da sfruttare e aiuta anche la destagionalizzazione ovviamente.